ciao a tutti e benvenuti nella mia cucina oggi vi mostro come preparare delle polpette di zucca light gli ingredienti che ci occorreranno sono 200 grammi di tritato di vitello 150 grammi di purea di zucca grana padano grattugiato sale quando basta pangrattato all'interno di una ciotola vado ad inserire la purea di zucca aggiungo il tritato e inizio ad amalgamare questi ingredienti dopo aver amalgamato la zucca con il tritato aggiungo il grana padano grattugiato lo grattugio scaglie per la quantità fate ad occhio più ne mettete e più date il vapore però ricordatevi sempre che una ricetta light quindi non dovete esagerare dopo aver inserito il grana padano mettiamo anche un pizzico di sale e un pochino di pangrattato giusto una manciata e impastiamo se non le volete fare light all'interno potete mettere un cubetto o due cubetti o di mozzarella o di provola per renderli filanti io ovviamente non lo metto vi faccio vedere la consistenza la consistenza è questa qua vedete adesso formiamo delle belle palline ogni polpetta la passiamo all'interno del pangrattato le adagiamo all'interno di un vassoio o all'interno di un piatto è arrivato il momento di cuocerle io le cuocio all'interno della friggitrice d'aria a 180 gradi e il tempo di cottura ve lo dico alla fine però potete cuocerle o all'interno del forno sempre 180 gradi e il tempo di cottura è uguale alla friggitrice d'aria quindi ve lo dico alla fine oppure potete cuocerle all'interno della padella se non le volete fare light e con l'olio quindi fritte insomma potete decidere voi come cuocerle bene vado ad infornare nella friggitrice d'aria trascorsi 25 minuti si stavano un pochino bruciacchiando problema perché a me piacciono proprio quando le cose sono un pochino bruciacchiate le ho tenute all'interno della friggitrice d'aria 25 minuti però avevo sbagliato il tempo quindi invece di mettere 180 gradi si è inserito 200 gradi per questo si stavano bruciacchiando però sono morbidissime adesso tocca a voi replicare la mia ricetta e fatemi sapere sotto nei commenti cosa ne pensate guardate l'interno vedete è morbidissima questa fa invece la piallata di zucca ho pubblicato anche la ricetta se volete vi metto il link sotto nel link box